venne pari 2019 siamo allo stand tutto capsule e ci troviamo in compagnia di pier paolo bianchi il responsabile commerciale per l'area nord di caffè lollo il brand che ha come testimonial antonino canna vacciolo che vi sta portando molta fortuna pier paolo buongiorno e benvenuti buongiorno a tutti si in effetti ci sta portando molta visibilità personaggio che abbiamo scelto in questi ultimi anni e canna vacciolo è riconosciuto da tutto veramente da tutte le parti il brand lollo è sempre più affermato in italia e quest'anno abbiamo pensato di iniziare a vedere la francia come un mercato nuovo da sviluppare tante le novità in casa caffè lollo quali quelle del prossimo periodo? sicuramente abbiamo inserito tutto quello che è la gamma dei solubili di tutti i formati che abbiamo che parte appunto la point, la nespresso, la cialda, il dolce gusto e indubbiamente il dolce gusto che ad oggi è il dolce gusto più buono che c'è sul nostro mercato tu ovviamente lo stai dicendo non perché sei un venditore del caffè lollo ma perché è particolarmente gustoso, leggero, persistente al palato sicuramente oggi ha delle caratteristiche molto performanti, la compatibilità con tutte le macchine sicuramente ma come dicevi appunto te è un prodotto che rimane e ce lo ricordiamo nel tempo Pierpaolo grazie, salutiamo gli amici di VenninTV che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi tre minuti ciao a tutti e grazie e che vedranno nel prossimo periodo non solo voi come protagonisti della nuova VenninTV in streaming ma tanti altri protagonisti internazionali in lingua francese, inglese, spagnola, tedesca e così via voi sarete anche all'OiVend a Colonia sicuramente saremo presenti per continuare questa esperienza sulle fiere internazionali e cominciare passo dopo passo in modo molto timido a esportare il vostro prodotto grazie Pierpaolo di nuovo grazie a tutti, ciao grazie a tutti